lezione numero 2 del corso base di uncinetto quindi oggi rivedremo la catenella e vedremo la mezza maglia alta e la maglia alta stesso uncinetto e stesso filato della lezione numero uno quindi facciamo il nostro cappietto di nuovo codina tra le mani avvolgiamo due dita o più incrociamo il filo così non ve l'ho fatto vedere benissimo nell'altra lezione quindi ve lo faccio vedere bene ora in questo modo infiliamo l'uncinetto sotto e tiriamo il filo dietro dopodiché stringiamo e ecco qua il nostro cappietto fatto ora io sempre mi metto la codina tra le dita da questo lato così non mi dà fastidio e inizio a fare le mie catenelle ovviamente le catenelle le farò velocemente perché ve le ho fatte vedere nella lezione numero 1 quindi sapete gettate 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 passate nell'occhiello gettate passate nell'occhiello gettate passate nell'occhiello vado un po più velocemente perché sicuramente avrete imparato la catenella nell'altro corso quindi nella lezione numero 1 ora facciamo un po di catenelle e facciamo che queste sono quelle che ci bastano per il nostro progetto partiamo con la mezza maglia alta quindi facciamo due catenelle aggiuntive allora mettiamo il dito sull'ultima catenella se ci è più semplice quindi questa è l'ultima catenella ci mettiamo sopra il dito se non ci è semplice non importa non ce lo mettiamo facciamo due catenelle filo sull'uncinetto e contiamo dall'uncinetto una due e nella terza catenella infiliamo il nostro uncinetto peschiamo il nostro filo in questo caso abbiamo tre occhielli sull'uncinetto usciamo da tutti e tre e questa è la mezza maglia alta quindi riempito sull'uncinetto mi raccomando a differenza della maglia bassa in questo punto si mette il filo sull'uncinetto anche prima di entrare nell'asolina quindi entriamo nell'asolina peschiamo il filo usciamo abbiamo tre fili sull'uncinetto filo sull'uncinetto usciamo da tutti e tre di nuovo filo sull'uncinetto entriamo nell'occhiello peschiamo il filo lo portiamo fuori dall'occhiello tre fili sull'uncinetto di nuovo getto il filo su l'uncinetto esco da tutti e tre questa è la mezza maglia alta quindi di nuovo pesco il filo entro nell'asola pesco il filo esco dall'asola tre asole sull'uncinetto getto il filo quindi metto il filo un'altra volta sull'uncinetto ed esco da tutti e tre i punti metto in basso il gomitolo così non mi dà fastidio di nuovo filo sull'uncinetto entro nell'asola pesco l'uncinetto esco ho tre asole filo sull'uncinetto esco da tutte e tre nuovamente filo sull'uncinetto entro nell'asola pesco il filo esco tre occhielli sull'uncinetto getto il filo esco da tutti e tre come vedete rimane un pelino più alta della maglia bassa e rimane anche più corposa adesso vi faccio vedere la differenza a fine giro quindi di nuovo ora vado avanti senza descrivervi quello che sto facendo ma ve l'ho fatto vedere quindi tiro un po il filo ecco qua lasciate libero il gomitolo così non vi tira filo sull'uncinetto entro nell'asola pesco il filo esco filo sull'uncinetto esco da tutti e tre filo sull'uncinetto entro nell'asola pesco il filo filo sull'uncinetto esco da tutti e tre filo sull'uncinetto entro nell'asola pesco il filo filo sull'uncinetto esco da tutti e tre guardate come più cicciottelle come più alta questa maglia della maglia bassa è veramente molto molto bella è una delle maglie che mi piace di più devo dire la verità la mezza maglia alta perché rimane molto fitta molto più chiusa della maglia alta ma molto più alta della maglia bassa quindi è una via di mezzo andiamo avanti e semplicissimo sembra una roba incredibile invece è veramente semplicissimo questo punto è veramente un punto molto molto bello a me piace perché a seconda di come lo lavoriamo può avere una trama diversa quindi sono quasi alla fine andiamo in fondo ecco siamo gli ultimi due punti l'ultimo è la solina iniziale quindi filo sull'uncinetto entro nella solina iniziale vedete dove c'è il nodino pesco il filo esco tre fili sull'uncinetto esco da tutti e tre e ho finito il mio primo giro guardate che bello è decisamente diverso dalla maglia bassa molto molto bello adesso ci sono due diversi modi per lavorare per continuare questo questa lavorazione questo punto e lo facciamo subito insieme per girare si fa esattamente come per la maglia bassa ma si fanno due catenelle invece che una quindi per la maglia basta facevamo una catenella e giravamo il lavoro per la mezza maglia alta ovviamente ne facciamo due giriamo il nostro lavoro e come per la maglia bassa dobbiamo entrare nella prima asolina che è questa non so se la vedete bene io ve la avvicino come potete vedere entriamo e l'asolina ha due è creata da due fili quindi questa è l'asolina dove dobbiamo entrare quindi se non la troviamo basta allargare e il buchino lo vediamo subito quindi filo sull'uncinetto prima asolina usciamo di nuovo tre fili sull'uncinetto usciamo da tutti e tre filo sull'uncinetto asolina ricordatevi di prendere tutte e due i punti come nella maglia bassa esco da tutti e tre quindi vado a fare quello che ho fatto finora come potete vedere è veramente carinissimo questo punto a me forse è uno dei punti che piace di più perché per l'appunto è molto pieno è molto come dire più spesso più morbido della maglia bassa o della maglia alta ed è una di mezzo quindi non è né alto come la maglia alta né basso come la maglia bassa ma è proprio differente vado avanti fino alla fine e vi faccio vedere come concludiamo sono giunta all'ultima maglia giunta all'ultima maglia state attente perché potreste sbagliare vedete che se no vi rimane lo scalino non è finita qui dobbiamo trovare le due asoline quindi le troviamo bene apriamo bene qua c'è il buchino quindi filo sull'uncinetto entriamo ci assicuriamo che le asoline sono due eccole qua sono due filo sull'uncinetto esco e chiudo quindi abbiamo finito il nostro secondo giro nuovamente due catenelle voltiamo il lavoro e come vedete la lavorazione dietro davanti è diversa rimane leggermente diversa perché da una parte sembra che sporga e da una parte sembra che rientri ma è molto molto bella non vi faccio vedere ancora il giro in costa perché lo teniamo per la prossima lezione quindi questa è la mezza maglia alta ma come fare la maglia alta è quasi identica alla mezza maglia alta c'è solo un passaggio in più lo vediamo subito abbiamo fatto le nostre due catenelle per alzare filo sull'uncinetto entriamo sempre nell'asolina mi raccomando prendete sempre bene i due fili la mezza maglia alta ne crea tre di asoline vedete questa sotto questa sopra e questa dietro noi entriamo sempre tra quella sopra e quella dietro e abbiamo due figli sull'uncinetto vedete in questo modo peschiamo il filo lo portiamo fuori ma a differenza della mezza maglia alta adesso dobbiamo fare due movimenti quindi lavoriamo in due tempi filo sull'uncinetto esco solo da due asole ho ancora due asole sull'uncinetto filo sull'uncinetto esco da tutte e due queste asole e ho fatto la mia prima maglia alta seconda maglia alta filo sull'uncinetto rientro pesco il filo lo porto fuori ho tre asole sull'uncinetto getto il filo esco solo da due ne rimangono due getto il filo esco dalle ultime due come vedete è decisamente differente la maglia di nuovo filo sull'uncinetto entro nella maglia sottostante pesco il filo vedete ho tre maglie filo sull'uncinetto esco da due filo sull'uncinetto esco da due quindi a differenza della maglia della mezza maglia alta io lavoro in due movimenti invece che in uno solo quindi invece di uscire da tutte e tre le asole in una volta faccio due gettate ed esco due volte di nuovo filo sull'uncinetto entro nell'asola sottostante esco ho tre maglie se volete essere sicuri mettete il dito sulla maglia che non volete togliere così siete sicuri che non la togliete quindi esco solo da due filo sull'uncinetto esco da due di nuovo pesco entro nella maglia sottostante porto fuori il filo tre asole filo sull'uncinetto esco da due filo sull'uncinetto esco da due vi devo far vedere per forza la differenza tra questa maglia e l'altra a inizio e fine giro perché mentre nella mezza maglia alta le due catenelle non si notano nella maglia alta le catenelle si notano ma noi non dovemo non dovremo chiudere sulle catenelle ma solo sull'asolina questa asolina qua quindi io proseguo in questo modo fino arrivare alla fine del giro come vedete guardate si va veramente spediti è solo questione di manualità e di memoria proprio a livello di movimento perché quando si fa una maglia poi il movimento diventa automatico quindi vedete sto andando veramente spedita ed è veramente bello così alla fine vi faccio vedere anche la differenza tra mezza maglia alta e maglia alta perché c'è una bella differenza arrivata alla fine del giro guardate la differenza sotto come è molto fitto e sopra come rimane molto più forato il punto la maglia alta è molto più forata della mezza maglia alta quindi arriviamo in fondo vedete c'è l'ultima qua ci sono le due catenelle una e una due ma noi dobbiamo entrare sul culmine della maglia quindi sotto queste due asoline che vedete qui quindi filo sull'uncinetto andiamo sotto le due asoline peschiamo il filo e chiudiamo la maglia esattamente come l'abbiamo iniziata ecco qui che abbiamo il nostro giro di mezza maglia alta è il nostro giro di maglia alta come si prosegue e in questo caso vi faccio vedere anche come si chiude perché nella prima lezione non ve l'ho fatto vedere quindi ci alziamo con due catenelle sempre sia per la mezza maglia alta che per la maglia alta io mi alzo sempre con due catenelle volto il lavoro e lavoro alla base della due catenelle proprio qui non andiamo nella prossima maglia che è questa andiamo proprio qui alla base delle due catenelle se voi allargate vedete che qui alla base c'è un piccolo foro e noi li entriamo quindi filo sull'uncinetto entriamo fuori da due fuori da due filo sull'uncinetto entriamo filo sull'uncinetto fuori da due fuori da due e così si prosegue fino alla fine del giro questa è la maglia alta come potete vedere è facilissima quindi filo sull'uncinetto entro pesco il filo filo sull'uncinetto fuori da due fuori da due di nuovo pesco filo sull'uncinetto fuori da due fuori da due vado avanti così per tutto il resto del giro è veramente molto molto semplice ve lo faccio vedere anche con l'impugnatura a coltello filo sull'uncinetto entro pesco tiro fuori 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 da due fuori da due e come vedete guardate la differenza questi sono due giri di mezza maglia alta vedete come sono fitti mentre con lo stesso filato con la maglia alta rimane più spazio tra le maglie quindi rimane un po più spazioso decidete voi poi quale punto utilizzare io arrivo fino alla fine vi faccio vedere come si finisce come si ricomincia e la chiusura una raccomandazione per non sbagliare allora quando entrate tra le maglie che avete caricato il filo non entrate in mezzo alle maglie vedete tra una e l'altra quindi qui ma proprio qui sull'asola della maglia quindi qui vedete qui sopra ci deve rimanere un filo tra il buco tra le maglie e l'asola che andiamo a prendere che è costituita da due fili vedete ci tengo a precisare questa cosa perché se no andate a lavorare tra le maglie e il punto viene ancora più largo e più corto tra l'altro quindi mi raccomando il punto dove inserire è sempre questo buchino qui quindi vedete che se allargate le maglie qua sotto è il mezzo tra le due maglie qui sopra invece c'è il foro che è proprio l'asolina di lavorazione della maglia quindi noi andiamo a lavorare nell'asolina e non tra le maglie siamo arrivati alla fine allora qui abbiamo le due catenelle noi quelle due catenelle le lasciamo non ci interessano vi sembrerà che il lavoro sporca un po di più e che abbiate dimenticato un punto ma non è così perché noi dobbiamo lavorare sulla solina dell'ultimo punto che è questa vedete questa qui queste sono semplicemente le due catenelle per alzare il lavoro a noi interessano queste due asoline quindi noi lavoriamo il punto normalmente e come potrete notare abbiamo lo stesso numero di punti però sembrerà quasi che sia un po più larghino da una parte un po più strettino dall'altra non vi preoccupate è normalissimo si lavora proprio così quindi mi raccomando due catenelle e voltiamo al lavoro continuiamo con un altro giro di maglia alta quindi di nuovo sempre nell'occhiello e non tra le maglie andiamo a lavorare ma le vedrete bene perché si vede dove il centro della maglia e dove c'è l'occhiello quindi guardate come vado spedita i due movimenti sono facilissimi dopo un po ripeto entra in gioco la memoria diciamo ripetitiva la memoria meccanica quindi non potete sbagliare andrete avanti a lavorare nello stesso modo ora finisco la riga e vi faccio vedere come si chiude il lavoro cosa che non vi ho fatto vedere nell'altro tutorial ma vi faccio vedere in questo naturalmente si chiude per tutti i punti nello stesso modo quindi che sia maglia bassa che sia mezza maglia alta che sia maglia alta si chiude sempre nello stesso modo vado avanti e vi faccio vedere come si chiude quindi sono arrivata all'ultimo punto queste sono le due catenelle che dobbiamo ignorare noi dobbiamo lavorare su questo punto quindi guardiamo bene dove entriamo vedete ho preso le due due asoline quindi filo sull'uncinetto esco filo sull'uncinetto esco da due esco da due e per chiudere il lavoro faccio una catenella di sicurezza e tiro il mio filo dopodiché vi faccio vedere come si taglia e come si nasconde ora per chiudere il lavoro ci serviranno queste due cose allora il metro non è necessario quindi lo mettiamo via ci servirà un paio di forbici e un ago da lana vedete che ha la punta arrotondata e la cruna molto grossa quindi cosa facciamo andiamo a tagliare il filo dalla da dove è attaccato il gomitolo mi sposto più in qua così lo vedete taglio il filo lo lascio abbastanza lungo perché io poi vedete vado a tirare la codina e creo il nodino quindi ho chiuso il mio lavoro nasconderò nello stesso modo anche la codina iniziale prendo il mio filato lo infilo nella cruna in questo modo ed ora andrò a nasconderlo sul retro del lavoro se avete un retro se no lo nascondete nel modo in cui più vi garba per non farlo vedere quindi vedete io scendo mi nascondo tra le maglie non tiro troppo altrimenti tiro la prima maglia dopodiché magari entro in questo modo di nuovo torno indietro un pezzettino magari lasciando una maglia in mezzo scendo un altro po così su un'altra maglia vedete scendo mi infilo semplicemente tra le maglie non tiro mi raccomando ritorno indietro un pezzettino ed è come se avessi fatto un nodo ora cosa faccio taglio semplicemente il filo ed ho chiuso il mio lavoro nascondendo il filato come vedete non si vede né da un lato né dall'altro quindi è nascosto bene stessa cosa faccio per questo ricordate di tenere la codina un po più lunga di come l'ho lasciata io io non prevedevo di doverla chiudere quindi l'ho lasciata piuttosto corta voi lasciatela sempre più lunga la codina iniziale in modo da poterla nascondere meglio comunque infilo il mio filato se ci riesco perché mi si è sfilacciato se si sfilaccia arrotolatelo bene infilate il filo nell'ago lasciamo un pezzettino e facciamo la stessa cosa vedete mi vado a infilare in questo caso tra nelle mezze maglie alte sono più cicciottelle diciamo e si nasconde meglio facciamo un'andata un ritorno senza che si sfili perché è corto facciamo un'altra andata non tiriamo tanto ecco qui e tagliamo il nostro filato ora abbiamo assicurato il fatto che non si disfi il lavoro quando andremo a lavarlo o altro quindi questa era la mezza maglia alta e la maglia alta vedete la differenza della trama questi sono tre giri di maglia alta questi sono due giri di mezza maglia bassa per mezza maglia alta guardate come è più fitta la lavorazione qui sotto mentre più compatta qui sopra rimane un po più larga diciamo che nei vari lavori la maglia alta è quella che si usa sempre di più io spero di essere stata esauriente anche in questo secondo tutorial vi mando i miei saluti quindi ciao da luci alla prossima lezione ciao